Ben ritrovati i miei carissimi colleghi dissidiani e non, io sono Jul e oggi vi porto una nuova analisi banner dedicata a Dissidia Opera Omnia. Oggi tocca al Lost Chapter del leggendario personaggio che i parlanti inglesi non riescono minimamente a pronunciare. Conosciuta come Science, conosciuta come Sins, conosciuta come Cini, non si capisce mai qual è il vero nome di questo personaggio, ve lo svelo io da italiana, non ci crederete mai, ma il suo nome si pronuncia 5. E oggi andremo ad analizzare il suo Lost Chapter dove la signorina ritorna in compagnia della sua EX più EX Plus e si porta dietro un personaggio che vede in questo banner il debutto assoluto della sua arma EX più EX Plus, ovvero Snow da Final Fantasy XIII. Prima le signore e iniziamo con l'analisi di 5. 5 è un DPS ovvero un attaccante fisico che fa parte della categoria dei cristalli verdi che ha una piccola nicchia per quanto riguarda il debuffing e che è specializzata nel tirare tante ma tante mazzate. Chi l'avrebbe mai detto? Pensate un po' che la sua arma è proprio una mazza. Gli slot D5 per quanto riguarda le sfere bonus sono di tipologia A, A e D e la sua statistica di punta è assolutamente l'attacco. Il kit D5 come potete vedere è completamente fisico, Bloomstone a parte e i suoi attacchi 15 e 35 sono Earthquake e Home Run Swing. Earthquake è un attacco AOE melee più colpo HP AOE che infligge danno HP pari su tutti i nemici e che introduce quella che è la meccanica principale D5 ovvero la meccanica dei livelli di stun. Stun è un debuff che abbassa la difesa del nemico del 20% e gli abbassa la velocità del 10%. Il debuff alla velocità è molto interessante e molto particolare perché non tantissimi personaggi si specializzano in questo tipo di debuff e inoltre grazie a Earthquake 5 si prende anche 3 turni di 20% Max Brave Up che schifo non fanno. Stun come tutte le meccaniche legate ai livelli quando arriva al livello 5 che è il massimo permette a 5 di avere un potenziamento di tutte le sue mosse che passano alla versione plus. Ma abbiamo questo problema qua. Analizziamolo adesso perché non ho intenzione di ripetermi in questo video sappiate che per me è un assoluto problema l'abbiamo già visto anche con Siaran purtroppo 5 è uno di quei personaggi che quando accumula gli stacks li scarica utilizzando delle abilità per cui non ci basterà raggiungere il livello 5 una volta in partita ma dovremo tutte le volte mantenerlo e riportarlo al massimo una volta scaricato. Andiamo a vedere velocemente anche Home Run Swing in quanto il kit D5 è molto straightforward. danni 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 ragazzi questo è il suo attacco single target considerate Earthquake per quando dovete picchiare più di un nemico e Home Run Swing per quando ne dovete picchiare uno solo con questo si aumenta l'attacco anche in questo caso andiamo ad aumentarci i livelli di stun abbiamo una ricarica brave prima del colpo e sblocchiamo la versione plus che è letteralmente una versione potenziata di Home Run Swing quando il nostro livello di stun arriva al 5 e state attenti perché anche in questo caso purtroppo stun se ne va specifico è una differenza molto importante ragazzi che stun non è una meccanica a livello di buff ma è una meccanica a livello di debuff per cui se il nemico in qualche modo decide di rimuoversi i buff o è immune o succede qualsiasi altra meccanica che non dipende da voi per cui lui si toglie questi stacks questi livelli voi finite fregati ragazzi quindi attenzione a dove schierate 5 controllate sempre prima che i nemici non siano immuni ai debuffs per favore per quanto riguarda le estensioni di Earthquake e di Home Run Swing non abbiamo niente di particolarmente particolare bello questo gioco di parole in quanto si riassumono in un aumento della potenza generale dei colpi ci prendiamo delle altre aggiunte interessanti come il 30% Death Down su tutti i bersagli su Earthquake o l'assai più interessante fatto che tramite il Brave Attack Plus e l'HP Attack Plus possiamo infliggere un livello di stun sul bersaglio ma a parte questo bello anche devo dire l'overflow 200% su Home Run Swing Plus e su Earthquake Plus purtroppo la meccanica degli stun rimane non viene rimossa a 5 per cui il problema di doverli accumulare e scaricare ogni volta persiste la Bloom Stone di 5, set stun Brave Up, che cosa farà mai? esatto ragazzi, infligge stun per 4 turni, un livello solo al bersaglio e inoltre andiamo ad aumentare anche la Brave della nostra 5 max limit breakando la Bloom Stone avremo un utilizzo in più di set stun Brave Up e utilizzando set stun Brave Up infliggeremo 2 livelli di stun invece che 1 questa è una Bloom Stone che se volete giocare 5 dovete maxare andiamo anche subito velocemente a guardare il Crystal Level 70 che sblocca l'effetto addizionale sempre sul colpo Bloom Stone abbiamo un aumento del Critical Rate del 100% e un aumento del danno critico inflitto del 20% buon bonus, devo dire, in questo modo 5 andrà sempre a picchiare facendo criticoni per 3 turni e in generale una Bloom Stone che aumenta la sua potenza di attacco ma d'altronde ragazzi parliamo di 5 ed è letteralmente l'unica cosa che volete potenziarle Whirling Mace è il colpo EX ma come diritto ragazzi dovrete aspettare ancora un paio di sezioni prima dell'analisi di questa parte passiamo alle passive sicuramente la passiva più di nota di 5 è Super Strong Space Case che ci fornisce un aumento della max brave dell'attacco del 20% finché il nemico è debuffato per cui tenete quei nemici debuffati ragazzi con buff attack speed up abbiamo un aumento di attacco e speed finché siamo baffati e poi abbiamo un altro potenziamento debuff attack boost up che aumenta di nuovo max brave attacco finché il nemico è debuffato ci siamo capiti che se giocate 5 dovete rimanere baffati e mantenere il nemico debuffato ci siamo e poi concludiamo con Radiance of Destruction and Power la passiva cristallo 68 che aumenta max brave e attacco di 5 del 20% personaggio molto selfish, molto egoista personaggio che non prevede aure di gruppo e quindi non potenzia i suoi compagni ma che da sola arriva ad avere un bel po' di attacco e un bel po' di max brave con cui mazzolare i nemici mettetela in squadra con dei supporti che possano potenziarla ancora di più e magari con un tank che possa proteggerla e permetterle di pistare i nemici come si deve andiamo alla gear list abbiamo Dominion Helmet che è la sua armatura finale che le aumenta max brave e attacco cosa volere di più ragazzi, questa armatura è perfetta per 5 e poi abbiamo la sua 15 e la sua 35 cp che aumentano i livelli di stun che possiamo infliggere tramite le nostre abilità tra l'estensione delle abilità e quest'arma si arriva ad infliggere 3 livelli di stun a colpo il che non è male se non fosse come al solito che 5 scarica i livelli di stun per cui attenzione alla gestione delle abilità perché vi servirà avremo anche un aumento della durata del max brave e dell'attacco e anche questo ci piace per cui che ve lo dico a fare maxatele entrambe le armi passiamo poi all'ogry hammer che è la EX di 5 una EX very slow ragazzi che in italiano si traduce con molto lenta diventerà semplicemente lenta portando l'arma ad azzurro e arrivando quindi al 3 su 3 di limit break questo attacco EX prevede 6 colpi ad area fisici più colpo hp single target aumenta il danno brave del 60% inflitto su bersaglio singolo abbiamo un 200% di overflow 5 è diventata famosa quando ha debuttato l'anno scorso perché è stato uno dei personaggi penso fosse pari a Prish con l'overflow più alto di quelli in uscita 200% per quando usci lei sembrava veramente un numero allucinante sappiatelo questo fu il motivo per cui di lei si parla molto poi alla fine come personaggio passò un pochino in sordina vedremo in quest'analisi se riuscirà a redimersi con l'EX plus dopodiché aumenta la brave degli alleati del 30% del danno HP inflitto questo ci piace infliggiamo secchi 4 turni del livello massimo di stun a tutti i nemici facciamo delay su tutti i nemici e come se tutto ciò non bastasse facciamo partire anche una chase il bersaglio verrà lanciato immediatamente e tutti coloro che non sono stati bersagliati verranno lanciati con più facilità il turno dopo colpo EX sicuramente valido considerate che è lento ragazzi per cui non è che andrete a spammarlo costantemente nella partita quando lo tirate cercate di avere un setup adatto e ricordatevi che partirà un lancio per cui una bella brave batter in coppia con la cara 5 ci sta veramente bene gli altri limit break a parte l'ultimo sono normali abbiamo un ulteriore aumento dell'overflow che quindi passa a 250% e un aumento del danno brave passiamo alla EX plus di 5 diamo un'occhiata allora 0 su 3 abbiamo un aumento del recast speed di whirling mace e questo ci piace non tanto ma tantissimo ragazzi che quindi passa dall'essere una EX lenta all'essere una EX leggermente lenta abbiamo un miglioramento utilizzando whirling mace inoltre ci prendiamo mighty maiden che è il nuovo buff personale di 5 un buff che aumenta l'attacco di 5 del 20% aumenta l'overflow del 20% e aumenta la brave del 30% della max brave per cui ci mettiamo un rigener brave addosso come vedete 5 è proprio egoista all'ennesima potenza pensa solo a se stessa e gli alleati devono pensare a lei l'1 su 3 è un aumento della max brave dell'attacco il 2 su 3 fornisce a 5 a inizio partita subito un bello stack di max brave up attack up e mighty maiden a inizio partita tutti i nemici saranno automaticamente colpiti con 3 livelli di stun per 4 turni il che significa che con una skill sola possibilmente quella a o e infliggerete a tutti i 5 livelli di stun inoltre utilizzando whirling mace recupereremo un uso di homerun swing questo ci piace ragazzi perché migliora la durata di 5 che comunque è un personaggio che avendo una EX un po' lenta deve sfruttare spesso le abilità utilizzando la EX ne recupereremo una ogni volta e questo è super positivo per il rendimento del personaggio arriviamo infine al livello viola al 3 su 3 quando utilizzeremo whirling mace avremo un potenziamento del colpo 3 colpi a o e fisici più colpo hp single target il tutto ripetuto 3 volte questo colpo fa veramente male mi fanno male le ossa solo a pensare ai danni che può portare a casa 5 con questo colpo abbiamo un aumento della potenza brave e tutti i bersagli si prendono 4 turni di action di lay up il che significa fondamentalmente che le loro azioni saranno rallentate la sfera bonus di 5 di tipologia A è una sfera che ci fornisce un piccolo origine brave ogni volta che breakiamo un avversario questo solo una volta per turno non è una brutta sfera non è nemmeno così impattante però sicuramente può essere simpatica su personaggi che volete che non rischino di essere breakati subito dopo un attacco il che vuol dire il 90% degli attaccati per quanto riguarda gli artefatti di 5 semplici, rapidi e veloci ragazzi attacco 108 per 3 super strong space case boost per 3 super strong space case boost è il boost che abbiamo già visto nelle sue passive le aumenta max brave attacco del 5% finché il nemico è debuffato e lo volete assolutamente in 3x abbinato a un 3x di attacco 108 perché 5 deve spingere il suo danno verso l'infinito e oltre soprattutto poiché sfrutterete molto l'attacco HP plus per renderla più durevole durante la partita e basta, questo è tutto per quanto riguarda 5 personaggio super offensivo che una cosa sola fa ovvero fare danno e che ha bisogno di essere supportata a dovere andiamo a vedere che cosa combina Snow che vi dico subito sarà un personaggio con ruolo completamente diverso rispetto a 5 è peculiare che in questo banner abbiano messo un tank abbinato a un DPS così ignorante passiamo a Snow Snow è un tank fisico che esattamente come 5 fa parte della categoria cristallo verde possiede uno slot sfera bonus A, uno B e uno C e come vedete ha statistiche completamente diverse rispetto a quelle di 5 in quanto l'attacco, la velocità, la max brave e l'int brave non sono altissime ma abbiamo veramente un sacco di HP e di difesa che giustificano e complementano perfettamente il ruolo di Snow che è quello di tank ricordo a tutti che il tank è uno dei due ruoli insieme al supporto più importanti di Opera Omnia il tank e il supporto infatti sono più importanti dei DPS in quanto di DPS se ne trovano e ne escono molti di più all'interno del gioco mentre il tank è il ruolo più raro in assoluto ce ne sono pochi sono tutti spesso molto degni di nota basti pensare a Galuf, basti pensare a Zack basti pensare a Edge sono personaggi che ci permettono di controllare il flow della partita di dirigere i danni spesso su di noi o di prevenirli nel caso di Edge e sono spesso le chiavi di volta di team offensivi dove magari vogliamo permettere a un personaggio di spammare tanti colpi senza doverci preoccupare del fatto che possa prendere danno per cui state molto attenti a questa analisi poiché nel caso in cui vi dovesse mancare un tank Snow è un personaggio che dovete controllare con entrambi gli occhi aperti perché potrebbe essere di vitale importanza per voi andarlo a recuperare questo vale, lo ripeto ancora una volta, per chi non possiede altri tank per chi non ha Zack, per chi non ha Galuf, per chi non ha Edge andiamo a vedere che cosa combina Snow esattamente come 5 anche nel caso di Snow abbiamo un kit interamente fisico più Steel Guard e l'attacco Bloomstone che invece sono dei buff personali iniziamo proprio da Steel Guard l'abilità 15 di Snow è un attacco che ci fornisce Steel Guard per 5 turni e Steel Guard diminuisce i danni Brave che Snow andrà ad incassare e piazziamo Lock sul bersaglio per 5 turni Lock è fondamentalmente il taunt ragazzi il bersaglio che subisce lo status negativo Lock che è un simbolo rosso con un mirino indica che sarà costretto a colpire Snow al posto degli altri personaggi che schieriamo capite bene che la strategia di lockare il nemico e aumentarsi le difese è molto solida ed è la base del kit di questo personaggio andiamo subito a vedere come migliora Steel Guard che come vedete ha un bel po' di cambiamenti innanzitutto ci prendiamo due osi in più e questo ci piace abbiamo una Brave Gain applicata al party intero migliora l'effetto di Steel Guard e ci prendiamo uno stack di Legend of Steel per 10 turni e lo stack massimo in questo caso è di 3 Legend of Steel ha questi effetti qui aumenta l'int Brave, la max Brave e l'attacco di Snow in base agli stacks gli mette Regene Brave e fornisce uno stack addizionale ogni volta che si riceve un attacco Brave solo una volta per turno capite bene che al contrario di 5 qui abbiamo un metodo molto sicuro e soprattutto gratis per aumentare gli stacks di questo nostro buff chiaramente Snow mette lock su tutti i nemici aspetta e saranno i nemici stessi a portargli Legend of Steel al massimo Legend of Steel inoltre gli permette di sbloccare l'attacco Brave Plus e l'attacco HP Plus e nel caso dei tanks l'attacco HP è di vitale importanza in quanto sono i personaggi che devono durare di più all'interno della partita e non volete sprecare l'uso delle abilità altra cosa importantissima di Steel Guard mamma mia me ne stavo per dimenticare con l'estensione triggeriamo un doppio colpo melee più colpo HP per cui considerate questo attacco come un ennesimo attacco fisico dell'arsenale di Snow detto questo andiamo a vedere Frost Strike che è un colpo melee single target di tipo ghiaccio Brave più HP che converte il 10% del danno HP inflitto in Brave che Snow recupera anche in questo caso andiamo a vedere come migliora il colpo questo è un miglioramento sensibilmente inferiore rispetto a Steel Guard che è la nostra abilità di punta abbiamo un aumento della potenza abbiamo un po' di overflow e migliora in generale la prestazione del colpo in sé non abbiamo dei cambiamenti particolari ecco forse il cambiamento maggiore è il più 4 agli usi di Frost Strike che quindi diventa un colpo che possiamo spammare molto di più il colpo Bloomstone di Snow è HP region attack up all che aumenta l'attacco del party intero per 3 turni e fornisce HP region a Snow per 3 turni insomma una cura passiva che sicuramente fa comodo andiamo a vedere il max limit break che ci fornisce un uso in più del colpo e migliora la durata degli effetti che durano 2 turni in più inoltre la passiva cristallo 70 eccola qui migliora sia l'effetto di attack up a tutto il party sia l'effetto di HP region solo su Snow sicuramente un'ottima Bloomstone in quanto se tirata con accortezza ci permette di non vincolare Snow a un curatore in quanto ci penseremo da soli a recuperare la nostra vita e anche nel caso in cui si giochi un curatore può essere diciamo una cura di emergenza mi ricorda molto la Bloomstone di Bash da questo punto di vista una cura di emergenza che può aiutarci a ristabilire i nostri HP il colpo EX over and fist lo andremo a vedere come al solito tra poco passive di Snow degne di nota beh abbiamo target attack up che aumenta l'attacco quando il nemico ci bersaglia e soprattutto abbiamo indomitable will che previene il KO se gli HP di Snow hanno almeno il valore del 50% questo ci piace poiché ci permette di evitare dei KO imprevisti o cariche improvvise di brave da parte dei nemici abbiamo inoltre buff attack e boost up che aumenta la max brave e l'attacco del party finché Snow è buffato questo è bellissimo perché io adoro i tank che hanno delle aure secondo me è molto importante che i tanks siano in grado di potenziare le prestazioni del party e vi dico subito che Snow lo fa abbiamo poi HP boost speed che aumenta la max brave e la velocità quando gli HP di Snow sono almeno il 50% e resonance of life and power che migliora gli HP e l'attacco del party del 10% come potete vedere Snow ha anche capacità di boost del party unite alle sue capacità di difesa e questo lo rende già un tank con le basi giuste armatura di Snow HP più 680 int brave 110 nel caso dei tanks sono più diciamo a favore degli HP è sicuramente la categoria di personaggi che li vuole massimizzati di più per cui sicuramente questa è un'armatura che vale poi abbiamo la 15 e la 35 di Snow che ne aumentano le potenzialità in battaglia e poi abbiamo il debutto della sua EX che è Paladin guardate qui che bella bel guantone tamarro con il cuoricino alla 3 metri sopra il cielo sopra Snow sei proprio un romanticone allora il colpo è Sovereign Fist 5 colpi AOE fisici più colpo singolo HP abbiamo un aumento del danno brave se il bersaglio è solo 1 120% di overflow splash damage del 50% sui nemici non bersagliati un aumento della brave del 20% del danno HP inflitto e ci prendiamo il boost Fervent Hero per 6 turni Fervent Hero aumenta l'int brave e la max brave di Snow e riduce il danno HP preso da tutto il party abbiamo imparato da Hope, noto voi due avete tra l'altro un'interazione che mi piace anche parecchio di Final Fantasy XIII per cui mi piace che questo buff strizzi l'occhio a quello che sa fare anche Hope, la riduzione del danno HP ed è sicuramente utile in quanto rende Snow sia un tank adatto a comunque gestire i colpi single target che naturalmente vengono rivolti su di lui anche perché questo colpo EX provoca tutti i nemici per 5 turni quindi è l'effetto della prima abilità di Snow esteso a tutti i nemici ma oltre ad essere bravo a parare i colpi singoli diventa anche bravo a gestire le AOE questa è una caratteristica che pochi tanks hanno prendete per esempio Galuf super forte sul single target ma assolutamente incapace sugli AOE ecco Snow riesce anche ad essere efficace sulla prevenzione dei colpi AOE in quanto riduce il danno preso dal party questo lo rende molto versatile e mi piace molto devo dire come effetto secondario con il 2 su 3 estendiamo Fervent Hero di 3 turni quindi andiamo ad averlo per 9 turni e con il 3 su 3 la nostra EX da normale diventa leggermente veloce e questo è importantissimo ragazzi poiché è una EX del genere vogliamo poterla spammare vogliamo che i nemici bersaglino il nostro Snow e con una EX con un recast così buono lo faremo senza il minimo problema andiamo con la Realization 0 su 3 aumento della potenza di Sovereign Fist e aumento dell'overflow boost normale 1 su 3 aumentiamo Max Brave attacco di Snow anche qui siamo sulla normalità 2 su 3 partiamo subito con 6 turni di Fervent Hero e questo ci piace perché vuol dire che pareremo i nostri alleati già dalle prime waves e inoltre non consumeremo alcun uso delle abilità tirate durante il primo turno questo è molto bello perché vuol dire che possiamo setupare con Snow sin dall'inizio e comunque iniziare a caricare il nostro colpo EX con Fervent Hero attivo inoltre ci prendiamo il Brave Attack++ e l'HP Attack++ e come vi ho già detto questo è un boost fondamentale per il kit di Snow ve l'avevo parlato anche con l'analisi di Galuf vi ricordate? è importante che i tanks abbiano dei colpi HP sempre più potenti in quanto li spammeremo molto spesso soprattutto nel caso di Snow che ha una EX parecchio rapida per cui assolutamente almeno a 2 su 3 dovete portarlo ma personalmente arrivati a questo punto del meta vi sconsiglio di essere tirchi e se volete investire su Snow andate fino in fondo anche perché il 3 su 3 ci potenzia Sovereign Fist che diventa un 3 colpi AOE melee Brave più singolo colpo HP seguito da 5 colpi AOE melee Brave più singolo colpo HP abbiamo un aumento tremendo della potenza Brave e quando breachiamo un bersaglio o attacchiamo un bersaglio brecato infliggiamo l'80% del danno HP anche ai non bersagli molto 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 forte come potenziamento assolutamente da prendere e in generale trovo questo kit X Plus molto ben studiato fornisce l'attacco HP Plus Plus a Snow che ne aveva bisogno e ne migliora in generale il potenziale offensivo la sfera bonus di Snow è di tipologia B e recita così quando si attacca un nemico che sta bersagliando noi stessi aumenta l'attacco del 10% questo ci piace molto molto forte su Snow è un aumento che non è vincolato a turni per cui personaggi in grado di infliggere target lock lo sapranno sfruttare molto bene artefatti di Snow non c'è nemmeno da perderci troppo tempo ragazzi attacco più 108 Max Brave più 330 per 3 non possiede artefatti speciali HP Damage Guard non ci piace e non è necessario per cui assolutamente 3 per di questo e 3 per di questo e con gli artefatti di Snow abbiamo concluso anche questo nuovo video analisi andiamo subito a tirare le somme su questo banner perché ho un paio di cosine da dirvi i banners che presentano dei tank di valore sono banners che devono essere analizzati in maniera un pelino diversa dagli altri perché ragazzi lo ripeto è molto importante il tank è un ruolo fondamentale in Opera Omnia quando vi troverete a dover affrontare delle sfide in cui i nemici pistano come fabbri e farete fatica con un semplice curatore a gestire tutti quei danni avrete bisogno per forza di un tank per cui perderli è un grosso problema anche perché oramai tutti i personaggi di Opera Omnia si basano sulle loro EX per avere dei kit convincenti per cui ve lo ripeto indipendentemente da quello che dirò ora del banner che è una valutazione mirata a giocatori che immagino abbiano almeno uno o due tanks nel loro arsenale se siete persone che hanno appena iniziato a giocare e non hanno un personaggio difensivo ripeto Zack, Edge, Bash possiamo considerare anche Bash anche se ormai è un po' vecchiotto Galuf se non avete questi personaggi dovete prendere Snow perché vi darà una mano incredibile con i prossimi contenuti di gioco detto questo adesso mi rivolgo a tutti i giocatori in generale quindi alla media che sicuramente almeno un tanks ce l'avrà questo banner ragazzi secondo me i tickets li vale in pieno le gemme vi dico di no vi dico di no perché Snow è molto valido 5 non altrettanto 5 è un personaggio che purtroppo cade in questo pantano fastidiosissimo che è la meccanica degli stacks che lei perde ne ho già parlato anche con Sianran ragazzi non è bello perdere gli stacks che andiamo ad accumulare e non è altrettanto bello avere gli stacks vincolati a un debuff ma vi rendete conto che se prendete con 5 un nemico immune ai debuffs con lei non giocate? cioè potete direttamente metterla in panchina guardate non potete nemmeno schierarla per cui lei non è così versatile e questo è il problema che ho il colpo Iax di 5 è veramente forte ma 1 non è veloce e 2 non le permette comunque di tamponare questo problema della meccanica degli stacks meccanica che tra l'altro è peggiorata ancora di più dal dettaglio che 5 non aumenta i debuffs con l'aumentare degli stacks i debuffs sono fissi per cui non avrete nemmeno dei vantaggi in termini di death down andando a diffliggerne di più no è semplicemente una meccanica fastidiosa che dovete mantenere su per farla giocare per cui lei non è assolutamente un DPS a livello di DPS passati come lightning o di DPS che arriveranno ragazzi sta per arrivare Jack che è un DPS molto più forte di 5 è letteralmente il prossimo banner per cui se avete bisogno di personaggi offensivi non vi conviene pullare qua snow è molto carino per cui tickets sì considerate anche le gemme gialle se vi manca il tank anzi anche verdi è molto 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 forte molto difensivo kit sinergico belle aure di gruppo chiaramente se avete già personaggi come Galuf non avete bisogno di fare pity per lui tenete tenete perché i prossimi mesi ve lo ripeterò fino allo sfinimento per tutto il mese di maggio sono di fuoco ragazzi avrete bisogno di gemme detto ciò io credo di poter ritenere anche questo video analisi concluso vi auguro buona fortuna nel caso in cui cercherete questi due signorini se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace perché in questo modo mi farete capire che il lavoro è apprezzato e se volete rimanere aggiornati sui miei prossimi contenuti a tema Opera Omnia iscrivetevi al mio canale basta un click è gratuito ci mettete un secondino e tra l'altro vi benedico anche per tutte le vostre future evocazioni che andranno sicuramente meglio da giul è tutto io vi do appuntamento su twitch per le mie live serali dedicate a Opera Omnia e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao